E' l'orizzonte giusto, il PD è un partito che il femminismo ce l'ha nel DNA e il segretario Letta l'ha rilanciato, l'ha rilanciato trovando, devo dire, una esplosione naturale anche da questa partecipazione di circoli, sono tutti circoli molto contenti di questa svolta e bisogna ringraziare anche i due capigruppo uscenti che hanno consentito che questa proposta del segretario Letta di venisse realtà. Ora tutti al lavoro con il capogruppo Malpezzi e il capogruppo Serracchiani, il PD è unito, è il paese incrostato di mascherismo, se mi posso consentire, il segretario ha dato una scossa al PD come era giusto che fosse e la risposta è stata immediata perché il PD attraverso le sue articolazioni ha risposto immediatamente all'appello del segretario.